pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati cosa significa in termini estremamente concreti essere discepoli di gesù cosa comporta ci risponde il vangelo di questa domenica indicandoci tre movimenti essenziali se qualcuno vuol venire dietro a me uno rinneghi se stesso due prenda la sua croce tre e mi segua ma che significa è l'elogio della sofferenza si tratta di rinunciare alle cose belle della vita o di rinunciare a ciò che impedisce la vita vediamo un po il punto di partenza di gesù è se uno vuol venire dietro a me dunque se uno mi vuol seguire e vivere da figlio di dio se uno vuol imparare ad amare da dio se uno vuol diventare santo e portare a pienezza la sua vita ecco l'itinerario primo rinneghi se stesso che significa farsi del male non valorizzarsi avercela con sé assolutamente no rinnegare se stessi significa rinunciare a se stessi al positivo potremmo dire significa vivere liberi da se stessi concretamente significa almeno due cose non assolutizzare il proprio modo di pensare e sapersi dire dei no se voglio dunque seguire gesù devo imparare a non assolutizzare i miei punti di vista le mie convinzioni quello che penso di sapere su dio e sulla vita ed essere disposto ad una conversione profonda nel modo di pensare di sentire di agire lasciandomi rinnovare mente e cuore dal vangelo e dalla chiesa per capire dobbiamo vedere quanto sta accadendo tra gesù e pietro pietro ricorderete ispirato dal padre coglie l'identità di gesù tu sei il cristo il figlio del dio vivente gesù subito dopo inizia a spiegare ai discepoli che tipo di messia è il suo itinerario come ci salverà dando la sua vita per noi il figlio dell'uomo sarà consegnato morirà per poi risorgere il terzo giorno ma pietro non ci sta lo prende in disparte e gli dice dio non voglia non ti accadrà mai ora ti spiego come si fa anche si becca uno shampoo omicidiale da parte di gesù vai dietro a me satana perché mi sei di intralcio tu non ragioni secondo dio ma secondo gli uomini vedete pietro ha le sue convinzioni e in quel momento le assolutizza e arriva a pensare di poter insegnare a dio come essere dio allora gesù gli dice no pietro non io dietro a te ma tu dietro a me hai le tue convinzioni sulla vita se vuoi essere mio discepolo devi essere pronto a metterle da parte hai le tue idee su dio bene se vuoi accoglierne il vero volto che io ti rivelo devi imparare a metterle in discussione se vuoi imparare ad amare devi lasciartelo insegnare non puoi pensare di venirmi dietro continuando ad assolutizzare le tue convinzioni i tuoi schemi i tuoi modi di fare che hai acquisito negli anni devi capire che i tuoi pensieri non sono la realtà che non tutto ciò che hai nella testa è la verità mi cari quanto è importante tutto questo accostarci alla parola di dio col desiderio di ascoltare con un cuore da discepoli gente che vuole continuamente imparare quante volte nella vita invece noi non abbiamo fatto questo oppure ci siamo incaponiti su una cosa e abbiamo pensato che la salvezza fosse che dio facesse quel che volevamo noi o quante volte siamo rimasti o siamo incastrati nella non accettazione di qualcosa che non è andato come avremmo voluto noi e ci siamo rinchiusi rimuginando anziché aprirci alla grazia chiedendoci perché questa cosa non è andata cosa posso imparare da quell'evento come mi può servire per amare di più e meglio oppure quante volte tendiamo ad assolutizzare le nostre prospettive pensate anche nelle relazioni quotidiane quante volte leggiamo i fatti interpretiamo l'agire degli altri salvo poi scoprire che la realtà era ben diversa dai nostri pensieri ecco miei cari rinnegare se stessi vuol dire non assolutizzare i propri pensieri le proprie sensazioni imparando ad obbedire a qualcosa di concreto che è la parola del signore capace di tirarci fuori da quel buio in cui spesso finiamo quando rimaniamo attaccati ai nostri ragionamenti e marasmi emotivi ma non solo rinnegare se stessi significa sapersi dire anche dei no innanzitutto quando ciò che vogliamo non è buono e ci porta fuori dalla volontà di dio questa è la lotta che tutti siamo chiamati a vivere a partire dalle piccole cose quotidiane ad esempio è il momento della preghiera non ne ho tanta voglia mi viene in mente di fare altro sto lì e prego bene ho rinnegato me stesso e ho detto un no che è un sì più grande all'amore pure mi ritrovo tra amici e colleghi il discorso inizia a degenerare iniziamo a sparlare di qualcuno io vorrei dir la mia e invece taccio o cerco di deviare un po il discorso bene ho rinnegato me stesso ho detto un no che è un sì più grande all'amore vedo una persona bisognosa per la strada istintivamente sarei portato a cambiare lato per non incontrarla e invece tiro dritto la incontro le sorrido magari mi fermo un attimo se posso l'aiuto bene ho rinnegato me stesso mi son detto un no che è un sì più grande all'amore ma non solo rinnegare se stessi e sapersi dire di no anche in cose che di per sé sarebbero buone ma alle quali rinuncio per amore di dio e degli altri ad esempio nel mio ministero sognavo di essere parroco di x e il signore attraverso il vescovo mi manda nella parrocchia y rinuncio a me stesso e dentro in quello che il signore mi chiede è un sì più grande all'amore oppure arrivo a casa e vorrei riposarmi ma mia moglie magari ha bisogno di un aiuto oppure mio figlio vorrebbe giocare un po con me io metto da parte il mio desiderio di riposo e ci sto e aiuto e gioco capite dei no che sono dei sì più grandi all'amore potremmo pensare a tutto questo come qualcosa di pesante di difficile che frustra la vita e invece stiamo parlando di ciò che favorisce la vita qui non si tratta di rinunciare a vivere ma rinunciare a ciò che impedisce di vivere che è quella malattia micidiale che si chiama egoismo tutto deve essere come dico io come penso io soffro se le cose non vanno come dico io se vengo contraddetto mamma mia che prigionia ecco il signore ci annuncia la possibilità bellissima di essere liberati dalla ristrettezza del proprio egocentrismo ed entrare nella vita nuova risorta che cristo ci dona secondo se uno mi vuol seguire prenda ogni giorno la sua croce noi pensiamo che la croce sia soltanto sopportare pazientemente i contrattempi e le sofferenze che la vita ci presenta in realtà c'è qualcosa di più profondo ritorniamo al dialogo tra gesù e pietro pietro vorrebbe evitare gesù la croce pietro ragionava umanamente nei termini di autoconservazione di glorificazione di sé gesù dovrà mostrare un'altra strada la via della fedeltà al padre del dono di sé pietro ha un'impostazione da slalomista una vita vissuta cercando di evitare ciò che comporta fatica dolore sacrificio reale gesù vuole invece insegnare che non c'è vero amore senza sacrificio di sé pietro dunque vorrebbe evitare gesù la croce gesù gli dice no pietro se mi vuoi venire dietro la croce non la puoi evitare ma la devi prendere devi essere disposto a farti carico della tua missione di ciò che c'è nella tua vita e viverlo con fede e con amore comprese tutte quelle difficoltà quelle incomprensioni quelle sofferenze che comporta il seguirmi e lottare contro il male ed ecco allora l'adempimento del tuo dovere quotidiano l'amare le persone che è accanto svolgere con il cuore il tuo ministero saper non soltanto soffrire ma soprattutto offrire accogliere quelle difficoltà che conseguono il cercare di vivere il vangelo di perdonare di andare incontro ai poveri tutto ciò è la tua croce tutto ciò è la tua chiave per il cielo ricordo una storia molto simpatica di una persona che si lamentava per la durezza della vita e fece un sogno sognò che lui insieme a tanti altri camminava portando una croce dato che però questa croce pesava iniziò a tagliarne prima un pezzo poi un altro poi un altro ancora finché la croce non gli parve sufficientemente leggera ma a un certo punto la strada finì e c'era un burrone tutti ribaltavano la loro croce la usavano come un ponte per passare da una parte dall'altra peccato che la sua fosse ormai troppo corta e non passava più vedete i miei cari ognuno di noi ha la sua croce ha la sua missione da compiere ha una chiamata ad amare e ogni giorno abbiamo tante occasioni talvolta anche dolorose faticose per fidarci del padre per crocifiggere il nostro egoismo e crescere nell'amore noi a volte le sciupiamo siamo tentati di giocare al ribasso di fuggire da ciò che comporta fatica eppure il signore vuole incontrarci proprio lì vuole salvarci proprio lì vuol farci sperimentare il suo amore la sua potenza proprio lì vuol dilatare gli spazi del nostro cuore proprio lì dunque non aver paura caro fratello cara sorella non sei solo e la tua fatica non è inutile e ricordalo la tua vocazione è la tua via al cielo la tua croce è la tua chiave del cielo e infine terzo punto gesù dice prenda la sua croce e mi segua dunque mi venga dietro mi imiti prendendo sul serio le parole del santo vangelo vivendo secondo il mio stile di vita cari fratelli e sorelle gesù subito dopo ci dice chi vuol salvare la propria vita la perderà chi la perderà per causa mia e del vangelo la troverà quella che tanto desideriamo quella vita piena felice che gesù è venuto a donarci e a insegnarci è la via dell'amore perdere per trovare se la vita la tieni per te marcisce se invece la doni fiorisce una regola tanto semplice eppure tanto preziosa che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti grazie